Quest'anno cinematograficamente ho avuto tante assenze di un certo tipo di cinema che invece amo vedere in sala, il mio slow cinema, quindi ho deciso di recuperarlo a casa vedendo Tropical Malady di Apichatpong, fin del 2004, che è un capolavoro, poco da discutere, veramente è un film che ti chiedi come sia possibile che venga realizzato. La più grande riflessione che mi ha fatto fare è una cosa che da allora mi sta ronzando in testa ed è l'importanza per un grande film, per essere considerato un grande film, di avere immagini potenti. Immagini che quando le vedi ti chiedi davvero ma com'è possibile realizzare un'immagine di questo tipo? C'è un enorme totale dove c'è questo personaggio soldato in questa foresta di notte che osserva una tigre posizionata su un ramo di un albero accanto. È un'immagine molto folcloristica tailandese ma è veramente un'immagine potente. Tu la vedi e rimani abbagliato, rimani travolto.